La terribile tragedia del ghiacciaio della Marmolada, costata 11 vittime, rimarrà impressa nella memoria collettiva. Mentre la montagna restituisce lentamente i corpi travolti dall'enorme lastra di ghiaccio, ci si interroga sulle cause del crollo e su quelle del disastro. Appare chiaro come il caldo e la seccità siano due fattori che hanno inciso pesantemente. Con Carmine Incollingo, della sezione di Sernia del CAI, il club alpino italiano, abbiamo parlato dello stato di salute di un ghiacciaio a noi vicino, quello del Calderone. Si tratta dell'unico ghiacciaio appenninico all'interno del massiccio del Gran Sasso d'Italia, in Abruzzo. Si chiama il ghiacciaio del Calderone perché sta in una caldera, oramai è il fondo di un ghiacciaio. Quello di là non potrà mai scivolare. Purtroppo potrà continuare a sciogliersi come sta succedendo. Il ghiacciaio del Calderone non presenta particolari rischi. È chiaro che ci sono anche dei rischi stupidi. Se io ho una roccia che è coperta di ghiaccio e quella roccia spunta anche solo per un poco, quella roccia si scalda. E cosa fa? Scioglie il ghiaccio intorno a lei. Si chiamano cavità da disgelo. Chiunque va in montagna e frequenta gli ghiacciai le conosce. E deve capire, deve sapere che se metti il piede a fianco alla roccia va a finire nel vuoto e si rompe la gamba. Si muore anche perché uno si è rotto alla gamba è rimasta a 3.000 metri d'inverno, in primavera. Dal dottor Inco Lingo il decalogo per andare in montagna, regole, è proprio il caso di dire ancorate al semplice eppure qualche volta dimenticato buonsenso. Intanto, soprattutto d'estate, una quantità sufficiente di acqua. Perché il colpo di calore è molto più pericoloso di tante altre cose. Un cappello che ripari dal sole. Stiamo sempre parlando d'estate. Comunque ci vuole un ricambio perché può esserci un acquazzone. Ci vuole una mantella o una giacca impermeabile che protegga dagli improvvisi cambiamenti di tempo che possono esserci in montagna. E ci vuole anche una scorta di cibo che, diciamo così, uno deve ricordare tenere di riserva. Perché? Perché se uno si fa male e non viene recuperato subito, le proprie possibilità di sopravvivenza aumentano se uno ha la possibilità di alimentarsi. Le altre cose, scarpe adatte. Quindi scarpone, mai scarpetta da ginnastica perché solo sconnesso uno rischia di prendere una storta e avere problemi per cose banali, per una storta. E poi un consiglio che nasce da un motto di Walter Bonatti, compianto alpinista, di fama mondiale. Saper rinunciare. Saper rinunciare e non voler fare quello che è al di là delle proprie capacità tecniche e della propria dotazione di materiale, del proprio stato di salute. Io avrei delle capacità tecniche per arrampicare fino al quarto o quinto grado. Ho avuto tre infarti, non vado più ad arrampicare. Bisogna saper rinunciare. Perché diceva Walter Bonatti, dicevo prima, chi è l'alpinista bravo? È quello che muore nel suo letto. Grazie a tutti.